Giovedì 18 marzo, investire in 90 secondi, oggi cercheremo di non giocare in borsa come dice la nostra massima facciamo partire il counter, sarà un pro forma perché come sai la rubrica sarà un po' più lunga in quanto è diventata settimanale detto ciò andiamo al punto, il Fuzzimib parte in positivo, questo è il grafico a 5 minuti questa è la variazione dei migliori e peggiori a piazza affari, come vi dice BPM che domina il listino per il momento la questione è questa, ieri c'è stata la riunione della Fed tanta attesa, sostanzialmente sono state riviste le stime di crescere dell'economia americana al 6,5% per il 2021 dal 4,5% e l'impressione è che Powell nonostante i dati che evidenziano una crescita, prospetti dell'economia, una diminuzione della disoccupazione e quant'altro e quindi un'inflazione incipiente abbia fatto di tutto per rassicurare gli operatori che tutto sarà sotto controllo, che un'eventuale per inflazione sarà assolutamente temporanea e quindi un power super colomba che ha provato a rassicurare i mercati che hanno reagito in positivo ma oggi si vede che sul treasury, sul decennale a 10 anni americani siamo nuovamente sui massimi e quindi il mercato si fida relativamente, è tornato l'interesse per il mercato obbligazionario, tra l'altro anche in Europa si vedono i primi accenni di ritorno, di acquisti anche sui governativi e quindi questo sarà un po' il tema. Mi ha molto sorpreso insomma un power così colombi in tutti i modi ha cercato di rassicurare i mercati e francamente è la prima volta che si vede così ben disposto rispetto alle parole che volevano ascoltare gli operatori. Detto ciò i temi del giorno sono diversi, ve li mostro questa è la lista che ogni giorno viene mandata agli utenti di Prime Time sui titoli più interessanti da seguire con una logica in 3D, in primis abbiamo come visto i titoli bancari, c'è grande interesse su BPM è una grandissima forza relativa così come c'è interesse anche su Telecom che su livelli di prezzo assolutamente interessanti, qui si può interrompere quella che è la fase di bassista del titolo, sarà importante assistere a una giornata magari superiore, una chiusura superiore a 47 centesimi per dire che è il peggio alle spalle interessante anche la questione autostrade, si va definendo se piano piano si tornerà alla normalizzazione delle attività, chiaramente tornerà il traffico sulle autostrade così come torneranno un po' tutti i consumi ciclici abbiamo anche SNAM da seguire, ha dato i risultati e quindi anche storia interessante per vedere la reazione degli operatori, insomma ancora una volta ci aspetto una giornata bella, interessante, ricca di spunti operativi io ti auguro buona giornata e a presto